La Polizia Municipale di Ponte Cagnano-Faiano intensifica i controlli per la stagione estiva. Per quel che concerne la viabilità, è stata predisposta l'installazione degli autovelox sulla strada provinciale a Versana e sulla SP 175 per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Allo stesso tempo sono partiti i controlli sul fronte della prostituzione, che nella giornata di ieri hanno portato all'identificazione e all'allontanamento dal territorio di Ponte Cagnano-Faiano di due 26 anni di nazionalità rumena.